21 milioni di euro circa, 20 milioni 700 mila euro per la messa in sicurezza delle nostre scuole. Caliamo a terra le risorse del PNRR destinate alla Regione Marche per l'edilizia scolastica e lo facciamo per una scuola che guarda al futuro e non più al passato, quindi con una serie di innovazioni. Alcune le diamo per scontate, ovviamente sono requisiti richiesti dallo stesso Ministero, quindi miglioramento, adeguamento sismico e efficientamento delle nostre strutture, mediante la riqualificazione delle strutture esistenti o la demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici della nostra Regione. I destinatari sono, sia i comuni che le province, per quota parte del finanziamento, per le scuole di ogni ordine e grado. Che cosa ha voluto fare di più la nostra Regione? Appunto per questa scuola che guardi al futuro. La scuola come luogo di aggregazione principale delle nostre città e dei nostri comuni. Quindi una scuola che si apre al contesto urbano, si inserisce nel contesto urbano e vuole anche spazi didattici, spazi didattici all'aperto, attrezzati e non, che siano utili anche per le attività sportive e ricreative dei nostri ragazzi. Noi attendiamo nel giro di brevissimo tempo, nella filosofia dei tempi dettati dal Ministero, proprio per calare a terra le risorse del PNRR, le idee progettuali dei comuni con un cronoprogramma e un costo economico indicato dagli enti che beneficeranno del contributo. A quel punto sapremo quanti e quali istituti potremo andare a finanziare. Abbiamo messo quale requisito fondamentale la ventilazione meccanica controllata, che tanto utile è per combattere la pandemia, per garantire ambienti salubri agli operatori e ai nostri ragazzi, ma c'è qualcosa di più, anche i rilevatori di CO2 nelle classi, per comprendere la concentrazione di adenidride carbonica negli ambienti vissuti dagli operatori e dai ragazzi.